Johnny, tu saresti l'uvardascio che ha fatto la bergiera a cingoli? Si, sono io. Oh, questi mesi che v'è è un anno che si è diplomato, eh? Se pensi che quei ladri non si abbia manco mette sull'acqua, trovate contenta. Mmm, stiamo a posto. Ma che c'è fai con questo? Su, porta via un sonno. Sentimi a me. Io non te ne comando tante. A me basta che mi metti a bagno una lindicchia e che mi tieni d'occhio la carne sulla braccia. Gliela puoli fa? Sì, oh. Mmm, bravo. Domani ti riano da imbarassare le salsicce. E quando cogi la carne non chiude la porta che ci fa lo fume. Mmm. Però mi raccomando, la stagione è lunga e lo fritto dettando lassù. Ma che gli vuole imbarassare a me ciò? Mmm, Davos, chi mangia il pranzo? Senti che puzza. E se è che il perezzo è poigne.